Siamo giunti alla terza, premio, gran premio Anac, eliminatoria per i maschi sulla distanza del miglio, Armando Ido, Arielferma, Aristotele, Arcobaleno, Argento, P, Aramis Bar, netto favorito il Napoleon Bar di Rocca, Alokoget e Amadeus. La fila è completa dietro le ali, rinuncia Amadeus, un po' arretrato Argento P, prende velocità la macchina. Vi ricordo che ne vanno in quattro in finale. Via la macchina! E se lotta per il comando, all'attacco della piegato con Arcobaleno, con di dentro Arielferm e a largo Aramis Bar. C'è l'inserimento di Aristotele, quindi i due minopoli in pole position, prima e seconda, almeno lungo i birilli. 13,6 a partire, cerca spazio Arcobaleno, ma c'è il sole, l'Arcobaleno, per il momento non si vede. Quarto iniziale che se ne va nell'ordine del 30 scarsi e viene via il Napoleon Bar di Francesco Rocca, che punta in avanti e viene a chiedere strada e va su Arielferm. Deve allungare il targato ferme di Minopoli. 600 in 44,8, si viaggia da 1,14,7. I cavalli che affrontano la piegata con Arielferm che rientra all'avversario e il Ganymede di Mario Minopoli al comando. A largo insiste l'avversario, un minuto e un po' di spiccioli. E ora fa sul sedio Aramis Bar, sopravanza, e sta passando in vantaggio il Napoleon Bar di Rocca. Passa al chilometro, nell'ordine del 15,2, 14,6 di frazione. 500 alla meta e viene via bene Armandoido. I cavalli affrontano la curva finale con Aramis Bar al comando, un 14,7 eloquente, e Armando Ivo si affaccia su Arielferm. I cavalli sono al completamento della curva finale con il targato Bar al comando attaccato da Armando Ido, ma Armando passa sul velluto e la gioia di Armando Puoti e di Vincenzo Luongo e dell'avvocato. Insomma, di tutto e di più. Si difende Aramis Bar, ma ha trovato un cavallo e un driver affilati al cento per cento. Due minuti e un po' di spiccioli, uno, quindici e tre, e così a Armando Ivo, la gioia di Armando Puoti e la gioia dell'avvocato. Signori, Vincenzo Luongo, l'omino, quando c'è da spendere e da raccogliere, è sempre presente. Vincenzo Luongo, Armando Ido, in premiazione. Linea allo studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.